il cielo di alessandria è un volto noto dalla scacchiera a vetri in biblioteca il naso in alto gli occhi dentro al vuoto schivo i pensieri e il raggio che mi acceca iara è a lezione ed io l'aspetto qui andremo anche stasera al cinemetro il nostro amico sami il martedì ci lascia entrare in sala 3 dal retro lei a volte si avvicina a me seduto e copre la mia vista con le mani sotto la pelle dolce di velluto resterei cieco fino all'indomani e faccio spesso finta di cascarci ma poi mi libero dalle sue dita mi alzo in piedi e prima di baciarci le sorrido e la cingo dalla vita ritorno alla tastiera sgangherata e macino parole a destra e a manca ma questa traduzione di zapata nutre più il cuore che il mio conto in banca e mentre io sono fermo da mezz'ora sui versi di un poeta peruviano mia madre suda in fabbrica e decora le cuciture di un asciugamano lei spesso torna tardi il martedì vent'anni fa riprese a lavorare da un mese dopo che papà morì perché io avessi mezzi per studiare purtroppo le mie lauree appese al chiodo non mi danno granché per il momento e nonostante io lavori sodo tiro la cinghia e vado avanti a stento chissà se il mormorio cantilenato sotto questo soffitto circolare è simile al rumore del passato di chi veniva a scrivere e studiare ricordo ancora i giorni in cui papà faceva con me lunghe passeggiate fra queste stanze dell'antichità bruciate insieme ai libri e poi rinate da quando non c'è più se chiudo gli occhi mi sembra di sentire la sua voce lancette schermi pendoli rintocchi battono il tempo sempre più veloce e passano i minuti e quasi un'ora ma la mia iara ancora non si vede poi appare a un tratto la sua amica nora che si avvicina rapida e si siede so che hanno preso suo fratello tarik a causa del suo blog contro al assad i suoi non sanno proprio cosa fare temono per la sua incolumità la sua famiglia viene da damasco suo padre è un noto medico laggiù io per la loro figlia sarei un fiasco vorrebbero non la vedessi più dieci messaggi a vuoto sul display il cuore batte a mille in gola un modo per conversare un attimo con lei andare a casa sua è l'unico modo la biblioteca splendida alle mie spalle correndo solo l'aria mi sorpassa per strada gente muta e luci gialle poi prendo il primo autobus che passa li vedo proprio accanto alla fermata sua madre ha una valigia e un grosso ombrello lei con un'espressione rassegnata mentre suo padre chiude lo sportello dov'è che state andando per favore dove portate iara nella notte spegnete solo un attimo il motore secondi sono ore ininterrotte il fuoristrada nero si allontana scompare lentamente in un riflesso d'un tratto l'automobile siriana si porta via un pezzetto di me stesso ma vedo una signora del palazzo che grida e mi fa segno con la mano devo parlarti vieni qui ragazzo mi dice di salire al terzo piano la sua cucina odora di candela mi fa sedere in tavola dolcetti e dopo un gran sospiro mi rivela io so dove i sultan sono diretti quassù queste pareti sono un foglio la camera di yara è proprio accanto e dalle volte anche se non voglio finisco per sentire tutto quanto suo padre ha un caro amico un italiano che ha offerto loro aiuto e protezione so solo che è ricchissimo ed anziano e vive con la moglie a portenone i suoi l'hanno proibito di parlarti ha pianto quasi tutta la serata voleva almeno scriverti e avvisarti ma in qualche modo l'hanno spaventata devo pensare a una soluzione per riportare yara a me vicina dove si trova questa portenone per prima cosa prendo una cartina grazie 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 grazie